Maestro Antonio Lagamba siamo qua a Trento al Museo Moser dove hai appena installato una tua ultima opera. Un immenso piacere essere qui con degli amici, devo ringraziare Mimmo Buzomi perché mi ha permesso di conoscere il grande Francesco e quindi quando mi ha chiesto di realizzare un'opera da dedicare per il suo museo ho pensato a una frase che lui mi aveva detto in cui Moser nella sua carta d'identità quando gli hanno chiesto che professione vuole che mettiamo gli ha messo Contadino e quindi questo legame fra la terra e nello stesso tempo la tenacia di Moser l'ho voluto fare in acciaio e in terra che poi ho trasformato con la tecnica della metallicsolografia. Quindi ho voluto cogliere due momenti importanti della sua vita ciclistica il record dell'ora a Città del Messico e quindi c'è questa pista ciclabile con questa inclinazione della pista in cui Moser ha battuto il record dell'ora e poi una delle tante vittorie al Giro d'Italia è con la GSI e la Gazzetta dello Sport. Sono felice perché in questo paesaggio splendido è un piacere per me che vi sia un'opera che racconti questo grande campione.